Piccolo e veloce pensierino amici miei per oggi, non avete la sensazione che stia trionfando l'illusione da parte di molti di essere nati imparati, ovvero senza aver studiato, senza essersi preparati, di essere convinti dall'oggi al domani di riuscire a fare benissimo, di tutto e di più. Pensierino, pensateci, pensateci amici miei, pensateci.